Siamo a margine della Legal Forum organizzato dalle fonti tv a Palazzo Mezzanotte per discutere del futuro della giustizia penale a partire dall'analisi di una riforma, la riforma Cartabia che sarà appunto il punto di partenza da cui appunto stabilire una discussione e siamo in compagnia ecco del professor Alessandro Provera proprio per chiederle insomma alla conclusione della discussione che c'è stata questa mattina quale pensa sia il ruolo del penalista nel futuro? Il ruolo del penalista nel futuro è un ruolo sicuramente molto delicato, molto difficile però è un ruolo assolutamente entusiasmante. Il penalista del futuro deve avere sicuramente coraggio come si diceva nel convegno odierno, coraggio nel salutare con favore le innovazioni che sono state apportate dalla riforma Cartabia ma coraggio al contempo anche di mettere in luce gli aspetti che sono sicuramente migliorabili e deve avere altresì l'accortezza di trasmettere l'idea che la giustizia non è mai raggiunta del tutto ma ogni riforma è un'approssimazione, un cammino per raggiungere la migliore giustizia possibile quindi il cantiere dei lavori nell'ambito della giustizia non è concluso con la riforma Cartabia anche se la riforma Cartabia è sicuramente un passaggio molto importante e un presupposto fondamentale in questo percorso per una giustizia penale che sia sempre più efficiente e una giustizia penale che però sia rigorosa nel rispetto dei diritti e dei principi fondamentali del processo penale. Io parlo soprattutto da docente universitario e quindi da colui che ha la responsabilità nella formazione dei giovani penalisti, dei giovani giuristi in generale e dei penalisti del futuro. Quello che mi appassiona nel mio mestiere è per l'appunto trasmettere l'idea della necessità di una rivoluzione nel pensiero per quanto riguarda la giustizia penale e cioè far passare l'idea che la giustizia penale non ha come finalità la punizione ma come finalità la prevenzione e quindi l'effettiva tutela della società e dei beni giuridici fondamentali all'interno della società. La riforma Cartabia sicuramente va in questa direzione, va in questa direzione per l'accento posto sicuramente sulle pene sostitutive, il superamento tendenziale o comunque la strada tracciata del superamento tendenziale di una visione carcerocentrica del sistema penale e va in questa direzione anche e qua si può appunto parlare di innovazione epocale dell'introduzione dei sistemi di giustizia riparativa nell'ambito del processo penale. Sistemi di giustizia riparativa che possono perseguire in questo caso si può dire a pieno titolo efficacemente la funzione che deve appunto svolgere il processo penale che è quella appunto di risocializzazione come indicato dalla carta costituzionale dell'articolo 27,3. Ecco rispetto proprio alla legge Cartabia sono stati spesi diversi aggettivi in questa mattinata abbiamo sentito appunto riforma per certi versi epocale, per certi altri invece ancora un po' timida nell'approccio. Tanti aggettivi e ora invece Professor Provevara chiedo a lei di trovare alcune parole chiave per descrivere la giustizia penale del futuro. La giustizia penale del futuro deve necessariamente essere efficiente, con l'accortezza però di segnalare che efficienza non vuol dire solo celerità ma adeguata velocità per raggiungere gli obiettivi del processo penale e per mantenere inalterate se non addirittura implementare le garanzie nell'ambito del processo penale. Quindi la seconda parola chiave è che il processo penale deve essere garantista. Garantista è un concetto abbastanza vago ma si può specificare nel senso che il processo penale deve mantenere inalterati i diritti fondamentali che vengono riconosciuti dal nostro ordinamento ai soggetti coinvolti dalla vicenda penale e deve perseguire le finalità che il processo penale ha nell'ambito del nostro ordinamento. Soprattutto concluderei dicendo che la giustizia penale del futuro e questo è un auspicio dovrebbe essere una giustizia penale sempre più umanista o sempre più umanistica nel senso che deve essere una giustizia penale che tenga sempre più in considerazione l'uomo e le caratteristiche fondamentali dell'uomo, le aspirazioni e gli interessi di ogni soggetto coinvolto dalla vicenda penale. Grazie molte. Grazie a voi.